Tissot Classic, eleganza senza tempo e prestigio dell'artigianato svizzero. L'orologio da polso Tissot Classic è una testimonianza dell'artigianato svizzero di alta qualità e dell'eleganza senza tempo. Il marchio Tissot ha radici che risalgono al 1853, quando Charles Felician e suo figlio Charles-Emile Tissot fondarono l'azienda Le Lople, in Svizzera. Il Tissot Classic è uno dei modelli più riconoscibili e amati dell'azienda. È stato introdotto per la prima volta nei primi anni del XX secolo e da allora è stato costantemente aggiornato per mantenere il suo fascino nel tempo. Il Tissot Classic presenta un design classico con una cassa sottile e una lunetta sobria. Questo orologio è disponibile in diverse varianti, tra cui quelle con cassa in oro o acciaio inossidabile, cinturini in acciaio inossidabile o pelle di alta qualità. Il quadrante del Tissot Classic è una vera opera d'arte. Gli indici e le lancette sono finemente lavorati, garantendo una leggibilità ottimale. Il quadrante è disponibile in diverse varianti di colore, permettendo agli acquirenti di scegliere l'orologio che si adatta meglio al loro stile personale. Uno dei tratti distintivi del Tissot Classic è il suo movimento svizzero di precisione. Il movimento al quarzo garantisce una precisione impeccabile, mentre i movimenti automatici catturano l'essenza dell'orologeria tradizionale svizzera. Il Tissot Classic utilizza vetro zaffiro resistente ai graffi per proteggere il quadrante. Questo vetro di alta qualità assicura che l'aspetto dell'orologio rimanga impeccabile nel tempo, senza segni di usura. Con la sua storia lunga, le caratteristiche di alta qualità e il suo fascino senza tempo, il Tissot Classic è una scelta ideale per chi cerca un orologio che unisca stile, precisione e affidabilità. Sia che tu sia un appassionato di orologi o un acquirente in cerca di un classico senza tempo, il Tissot Classic è un'opzione che sicuramente soddisferà le tue aspettative.